L'enciclopedia digitale d'Annunziana oggi consente innanzitutto questa possibilità, cioè di restituire a un grande scrittore del nostro patrimonio letterario di riavere la posizione che merita nel quadro della letteratura italiana. Questo da una parte. Dall'altra, ripeto, l'altro grande vantaggio è quello di essere digitale e quindi di potersi proporre al lettore, a tutti i lettori, sia quelli più esperti sia quelli meno esperti, in una forma molto più velocemente accessibile che non quella cartacea.